Hello everyone! Avete capito bene, quando ero in Colorado sono andata a mangiare in un ristorante italiano. Devo dire che l'esperienza è stata piacevole e ho notato tante piccole cose che secondo me vi faranno un po' sorridere, perché a me hanno fatto sorridere. Quindi iniziamo, vediamole insieme. Da fuori il ristorante è molto carino, i tavoli all'aperto, niente di particolare, ma per fortuna non c'erano quelle, sapete le tovaglie, quelle rosse con i quadretti che mettono sempre in America per fare italiano? Cioè, non c'erano ragazzi, meno male, non c'erano. La cosa particolare che ho notato dell'ambiente più che altro era che nonostante non fosse una pizzeria o un pub informale, ma fosse proprio un ristorante, c'erano almeno tre schermi per guardare i vari sport. E c'era la partita, c'erano le olimpiadi, un'altra cosa, magari da noi ad un ristorante tre schermi per guardare le partite non è la cosa più comune. E la seconda cosa che ho notato è che era pieno, 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 pieno di camerieri. Ma davvero c'erano tantissime persone che lavoravano lì e secondo me anche questo è più legato al servizio dei ristoranti in America, perché avete visto il cameriere viene spessissimo, è abbastanza veloce come servizio. Per il resto però un ristorante carino, normale, accogliente. Passiamo al menù, che è la cosa che diciamo che mi ha sorpreso un po' di più. Se guardiamo gli antipasti, la prima cosa che leggiamo sono questi garlic knots, i nodi, i nodini all'aglio, che sono praticamente una rivisitazione di questo garlic bread, che è un pane all'aglio, che è considerato tipo l'antipasto italiano per eccellenza praticamente. Forse perché il sapore del pane con l'aglio ricorda un po' magari una bruschetta, ho pensato. Però la consistenza del pane è decisamente diversa da una bruschetta. Non è croccante, è più morbida, è più burrosa. Sicuramente un po' più pesante, però devo dire buono. Gli antipasti. Guardiamo qui il menù. Ci sono dei piatti originali di questo ristorante, ci sono dei piatti un po' più tradizionali, come gli arancini. C'è un antipasto che si chiama Antipasto, che ha un po' di salame, mozzarella, le olive, i carciofi, qualche crostino. In realtà non mi sembra niente di strano. Certo poi ci sarebbe da provare il salame e la mozzarella. E poi siamo passati ai primi. Guardiamo i primi perché i primi in realtà mi hanno fatto sorridere alcune cose. A parte il bolognese, che ormai lo sappiamo, è il ragù. Peperoni è il salame e bolognese è il ragù. Però a parte questo ci sono anche vari tipi di pasta, tipo ci sono le fettuccine, gli ziti, le conchiglie. Ho detto, vabbè, varietà. Ci sono dei tipi di pasta abbastanza tradizionali. La pasta con le vongole, il ragù, la parmigiana di melanzane o anche la carbonara. Che però, se andiamo a analizzare la carbonara, ha degli ingredienti un po' strani. Ve li leggo. Abbiamo il bacon caramellato, le cipolle rosse rosolate, l'aglio, i pomodori pachino, tutto rosolato con il vino bianco e con la besciamella fatta in casa. Però mi ha fatto anche sorridere perché su questo menù di ristorante, che non è neanche tra i più economici, diciamo, mi ha fatto sorridere che c'erano questi piatti della tradizione italiana che magari da noi di solito non troveremmo in un ristorante proprio sul menù. Perché magari sono piatti che ci facciamo a casa, tipo la pasta aglio e olio. Così semplice. Io non so se l'ho mai trovata in un ristorante in Italia. Certo, poi la puoi chiedere. Certo, io me la faccio sempre a casa. Però non so se l'ho mai trovata in un ristorante. Oppure c'erano due tipi di pasta al sugo, la pasta al pomodoro e la pasta al basilico. Che, aspetta, vediamoli insieme, analizziamoli insieme. Allora, la pasta pomodoro e basilico ha i pomodori pachino, l'aglio, l'olio, il limone, il basilico, tutto con una salsa al vino bianco, con le fettuccine. Puoi anche aggiungerci pollo, gamberi o salsiccia. La pasta pomodoro invece ha l'aglio rosolato nel vino bianco, i pachino, gli spinaci, il peperoncino, il basilico, ma sono rigatoni. Poi c'erano dei tipi di pasta che non ho mai sentito, tipo la Diablo, che non è neanche un nome italiano. Sembra bella carica, eh? Però non sembra male. Questa qui invece ha gli spinaci rosolati, le cipolle bianche, l'aglio, il peperoncino, la salsa marinara fatta in casa, la besciamella, la striraccia, tutto con gli spaghetti e anche qui puoi aggiungere pollo, gamberi o salsiccia. E poi c'era la pasta marinara. Adesso io conosco bene la pizza alla marinara, la pasta non so se l'ho mai sentita e tra l'altro la pasta al pomodoro, la pasta basilico, pasta marinara, non sono tutte esibili, non lo so. Ah no, non sono simili. Allora questa qui ha la salsa marinara fatta in casa, che è praticamente un sugo senza carne, con le spezie italiane, il parmigiano, il miele, l'aglio, la cipolla bianca, tutto questo con gli spaghetti e con le polpette o la salsiccia. La famosa pasta con le polpette. E poi ragazzi, ovviamente c'erano questi piatti italiani, americanissimi. E li devo menzionare. Innanzitutto le fettuccine o fettuccini Alfredo. Allora, le fettuccine Alfredo hanno la besciamella, il parmigiano, l'aglio e poi aggiungere pollo, salsiccia, funghi. Io, che non sono spaventata dalle cucine straniere e nonostante mi piaccia la cucina italiana, sono anche molto aperta alle cucine degli altri paesi, mi sono detta questa è l'occasione perfetta per provare le fettuccine Alfredo con i gamberi. Che cosa sarà? Vediamo. Brian ha preso una pasta cotta al forno con sugo e non mi ricordo che cosa ma c'erano dei pezzi di salsiccia. Mentre il padre di Brian ha preso questi conchiglioni sempre cotti al forno. Sì? È meglio di l'Italia. È molto meglio di l'Italia. È venuto con una spuola! Sì, ero sorpreso che lei abbia una spuola anche. Il suo primo colpito. Vieni. È un po' diverso. È buono. La pasta è non al dente, ma non è overcocita. Quindi la pasta è buona. Inoltre è buona. Mi provo la storia. È meglio di l'Italia? Beh, io sono in Italia. Ho appena guardato a Sonia's plate. Ho guardato a mio padre, mi ha detto una storia. Due minuti di storia. Ho guardato a lei, è morto. E qui è il tuo colpito. Sì, ho guardato, ho guardato, ho guardato, ho guardato. Ragazzi, io la pasta me la sono finita. Era la pasta migliore che io avessi mai mangiato? No, però non era scotta, non era al dente, ma non era neanche scotta. E questo io lo apprezzo sempre nei paesi stranieri. C'era tantissima salsa. Forse un po' troppa, perché era davvero tanta 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 salsa. Era molto agliosa, perché secondo me usano comunque la polvere d'aglio, non tanto gli spicchi di aglio interi. Quindi sapeva tanto di aglio. Però non è che era cattiva. Secondo me era abbastanza buona. Io me la sono finita tutta in cinque minuti, quindi... Italiana? No, non è un sapore italiano. Se dovessi dire la pasta italiana è più semplice, pochi ingredienti. Non lo so, meno pesante. Era abbastanza pesante. Però, secondo me, se un italiano la prova con una mente un po' più aperta, di sicuro non vomita. E secondo me era abbastanza buona. Una cosa di cui non ho ancora parlato è la carta dei vini. Perché io non bevo, non abbiamo preso vino. Anzi, il padre di Brian ha preso il vino. Però ve la faccio vedere qui. Non mi sembra che ci siano moltissimi vini italiani, in realtà, su questa carta. Però è anche vero che il vino di importazione costa un po' di più, quindi... Poi per me non è una parte fondamentale del pasto, scusatemi. Quindi non ci ho fatto troppissimo caso. Però questi sono i prezzi e i vini. Una cosa che ho guardato, ma che poi non ho preso perché i garlic knots e poi la pasta mi ha dato proprio il colpo di grazia. I dolci. I dolci che ho trovato sul menù in realtà mi sono sembrati abbastanza tradizionali. Cioè, sono dolci che magari avrei potuto trovare anche in Italia. Alla fine, secondo me, queste cose le trovi. Tiramisu, la panna cotta, tartufo. Magari un po' anni 90. Sapete anche cosa era molto anni 90 che ho notato? La pasta alla vodka. Che è buona, infatti non ho detto niente. È buona la pasta alla vodka, però... Secondo me io non la vedo in un ristorante e non la mangio da tipo gli anni 90. Questa però era particolare perché c'erano anche i carcioli. Poi l'ultima cosa interessante, ma questa probabilmente la sapete, è che Brian non è riuscito a finire la sua pasta. E quindi ha chiesto una box. Guardate ragazzi, gli americani non mangiano sano, però non mangiano tantissimo a livello di quantità. Secondo me nella mia esperienza, con quasi tutti gli americani che ho conosciuto e conoscendo tantissimi italiani, a livello di quantità noi italiani riusciamo a far espandere il nostro stomaco molto di più rispetto agli americani e quindi mangiamo di più. Però per fortuna abbiamo la nostra alimentazione perché se dovessimo finire sempre tutte le porzioni americane di quello che spesso si mangia lì nei ristoranti, penso che prenderemo un po' di peso. Però appunto in America non è per niente strano o maleducato assolutamente prendere il box, metterci dentro quello che è rimasto e portarselo a casa e poi ci si mangia il giorno dopo. Cioè con un pasto al ristorante moltissime persone, ce ne fanno due. Io personalmente no, o a me se me lo dai in un piatto io finisco il piatto. E niente ragazzi, questa è stata la mia esperienza al ristorante americano. Spero che vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato interessante. Secondo me era interessante e valeva la pena farci un video. Lasciatemi un commento e non dimenticatevi di seguirmi su Instagram. Ci vediamo alla prossima, ciao!